Amici della WebTV Studios, ci troviamo sempre a Supercar e mi trovo con accanto con la compagnia di Fabio Barone, salve, pilota di queste meravigliose auto. Ci vuoi raccontare un pochino? Sì, lo scorso anno abbiamo realizzato un record mondiale in Transilvania sulla Transfacarajan che è la strada più bella del mondo e quest'anno invece abbiamo alzato l'asticella e corriamo in Cina sulla strada più pericolosa del mondo che si trova nello Yunnan dove hanno girato Avatar. 99 tornanti a 2000 metri di altezza. È impegnativo però penso è meraviglioso. Sì, il posto è incredibile, veramente eccezionale così come il grado di pericolosità è altrettanto elevato. Ci proviamo, portiamo i colori dell'Italia in Cina e vediamo quello che succede. Un bocca al lupo, sicuramente. Senti, qui invece vi trovate con gli spettacoli, state facendo vedere le migliori Ferrari. Sì, abbiamo portato 40 Ferrari oggi, fra cui questo modello unico al mondo esclusivo che è la Ferrari in edizione super limitata. Questo è il top che c'è oggi in casa Ferrari e insomma ci fa piacere condividerlo con tutti i migliaia di appassionati che ci sono oggi. Sì, ci sono tantissimi, veramente tantissimi perché la Ferrari insomma è nel cuore di tutti quanti noi. Sì, esatto. Grazie e buona giornata. Grazie a voi, a presto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.